Allora mister, settima vittoria consecutiva in campionato, se contiamo la Coppa le vittorie sono dieci, meglio di così davvero non si può. Sì, sì, siamo attraversati un buon periodo, oggi eravamo appena appena stanchi anche perché venivamo da due partite fuori casa impegnativa con il Canuse e con il Trinitapoli, però i ragazzi hanno fatto bene, potevamo aiutare l'agge del primo tempo, però un po' di altruismo in più oggi c'è stato. Si voleva far segnare qualcuno che non sta riuscendo a fare gol, però va bene così, siamo un gruppo quindi tutto quello che fanno va bene, l'importante è portarlo a casa. Commissario, questo è qualcosa da sottolineare, magari sull'1-0 è un po' rischioso cominciare a fare gli altruisti, però significa che davvero la squadra è unita e questo naturalmente si vede anche in campo e con i risultati. Sì, sicuramente, la squadra è molto unita, è una squadra che comunque si allena bene insieme, festeggiano insieme bene, ma una volta alla settimana vanno a cena insieme e fanno gruppo. È un gruppo molto unito, ogni tanto ci sta qualche personalismo, però fa parte del gruppo, è sempre difficile portare tante persone ad essere un noi, qualcuno è sempre io, però noi siamo bravi, il direttore sta facendo un grande lavoro, perché secondo me noi sulla carta siamo il terzo budget del campionato e stiamo facendo dei risultati incredibili, quindi devo fare i complimenti al direttore che ha fatto un grande lavoro. Mister, ancora quattro gol, manteniamo la media. Sì, 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 mi fa piacere per i ragazzi che fanno gol, mi dispiace per quelli che non lo fanno, però ci facciamo trovare pronti. Poi nei secondi tempi diciamo che abbiamo pure una marcia in più, questo perché il prof Nando lo sta facendo un grande lavoro a livello di preparazione atletica e quindi diciamo che abbiamo tutte le componenti al posto giusto, dobbiamo soltanto cercare di migliorare perché oggi si è infortunato Miguel Altares e quindi abbiamo finito la partita con tanti ragazzini in campo. L'unica nota negativa è proprio questa, siamo un po' incerottati, bisogna stringere i denti perché comincia un altro ciclo piuttosto difficile, a partire già da domenica a Viesti. Sì, sì, siamo così, però sappiamo soffrire, c'è bisogno di recuperare almeno Massimo Polidori, Pinto e poi c'è bisogno di andare avanti così. I ragazzi, anche quello che entra, i ragazzini mantengono bene il campo, quindi diciamo che per adesso va bene così. Se naturalmente il Barletta deve pensare al Barletta, però a questo punto anche alla luce dei risultati che arrivano negli altri campi sarà un duello o dovrebbe essere un duello tra Barletta e Corato? No, io penso che ancora sia troppo presto per stabilire queste cose, sicuramente il Corato è una squadra che ha fatto grossi investimenti, anche in settimana, tra settimana scorsa e adesso ha preso altri tre giocatori, due over e un under, quindi è una squadra che ha una rosa importantissima, quindi ci sta. Poi c'è il Sansevero che è una delle squadre che gioca il miglior calcio, sono andato un po' meno Trinitapoli a Mola, però c'è ancora tempo per rifarsi.